Ciao tifosi, oggi sono incazzato, amareggiato e triste. Io cosa vi ho detto per quanto riguarda la gestione Mignani da quando è arrivato? Si è capito che ha cercato un pochino di contenere le difficoltà che avevamo in fase difensiva, che subivamo tanti gol e quindi ha cambiato modulo. In un certo senso è riuscito a dare solidità dietro. Sono arrivati gol lo stesso, però per situazioni che riguardavano errori dei singoli o grandi gol avversari. Ebbene, arriva questa partita contro la Reggiana, tra le nostre mura, partita che si doveva assolutamente vincere perché veniamo da tre pareggi di fila e bisognava dare una scossa non magari al campionato, però anche morale alla squadra, al gruppo, perché alla fine, come io già vi ho detto in precedenza, per il momento questa fase finale di stagione del Palermo serve solo come allenamento per quanto riguarda i play-off. Certo, ancora matematicamente non ci siamo dentro, ci sono buone possibilità e con una vittoria poi potevamo anche avvicinarci a chi sta sopra di noi in classifica. La Reggiana però non è una squadra semplice perché viene da un periodo difficile, però ha fatto benissimo in trasferta. Quindi una partita che non era per niente semplice da affruttare. La squadra rosa-nero grossomodo gioca con la stessa formazione, quindi un 3-5-2 o un 3-4-1-2 se preferite. Importa a Piacelli, difesa a tre composta da Diakite, Luciorini e Delciaru, centrocampo composto con gli esterni a sinistra Lund e a destra a Buttaro che sostituisce Di Mariano dall'infortunio, che si è infortunato. Poi al centro invece del centrocampo Gomez-Henderson e poi Di Francesco che fa da tramite tra centrocampo attacco e in avanti Brunori e Mancuso. I primi 20 minuti gioca benissimo la Reggiana, si rende molto pericolosa e bravo Piacelli in diverse circostanze a fare delle parate. Poi però viene fuori il Palermo, viene fuori il Palermo, inizia a prendere man mano il campo e poi arriva il gol, che inizialmente viene annullato e poi viene convalidato. Un gol che arriva con un lancio di Lucioni per Brunori, che è bravissimo a superare l'avversario e poi a scaricare il pallone in rete. Quindi 1-0 per la squadra Rosa Nero, che poi da lì in poi, diciamo che, scusatemi la ripetizione, praticamente è padrone del campo, comunque gestisce molto bene. Quindi, vantaggio che poi a quel punto abbastanza meritato. E si va a riposo, quindi sull'1-0 per il Palermo. Secondo tempo, secondo tempo parte benissimo la Reggiana e infatti poi a un certo punto arriva il gol del pareggio. Il gol del pareggio arriva dopo diverse situazioni, in cui resta proprio Piacelli, con i suoi riflessi a sventare la minaccia, e arriva su punizione. Gran punizione di Portanova. Nonostante le ottime parate di Piacelli, devo dire che forse la punizione non era poi così imparabile. Cioè, non era tanto angolata. È vero che ha una parabola discendente sotto la traversa, però secondo me qualcosina in più si poteva fare. Però comunque lui ha fatto delle belle parate, quindi non mi sento di dargli poi tutte queste colpe. Comunque, sta di fatto che la Reggiana pareggia e quindi incomincia a prendere campo, incomincia a prendere fiducia. Il Palermo ha qualche situazione in cui comunque cerca di contrabbattere, qualche ripartenza, una situazione discutibile in area di rigore, poi alla fine non viene dato il rigore, e poi arriva. Arriva il gol del 2-1 della Reggiana, arriva con una situazione in cui è molto bravo il loro capitano, perché c'è questo pallone vagante in area di rigore, lui colpisce a volo e la mette proprio lì all'incrocio. Niente da fare per Pigliacelli, quindi passa in vantaggio la Reggiana e per l'ennesima volta il Palermo si ritrova la partita ribaltata, un po' come succedeva con la gestione Corini, dove si passava in vantaggio, e poi però niente era scontato, perché il vantaggio era molto illusorio, visto che successivamente, il più delle volte venivamo rimontati, o col pareggio o con la vittoria, come abbiamo visto durante la stagione. Da quel momento in poi, Mignani cambia un po' le carte in tavola, fa entrare Ranocchia al posto di Anderson, e poco dopo fa entrare Traoré, esce Di Francesco, entra Segre, che praticamente sostituisce Buttharo sulla destra, poi entra anche Soler al posto di Mancuso, Mancuso oggi molto molto spento, e quindi in pratica Mignani mette in campo tutte le frecce al proprio arco, verso il settantesimo questo. E diciamo che si riesce ad attaccare, sfortunati in diverse circostanze, Brunori con un tiro che sembrava essere indirizzato in porta, viene deviato dallo stesso Soleri, poi in una situazione Brunori sembra essere ostacolato con una gomitata dal difensore, però non viene dato nulla, ci sono anche 5-6 minuti di recupero, però niente da fare, il Palermo non riesce ad agguantare il pareggio. Sconfitta tra le proprie mura, e io sono molto arrabbiato per un semplice motivo, perché questa è una sconfitta che potrebbe abbattere ulteriormente il gruppo. Finora si era riuscito un pochino a contenere le, come dire, gli attacchi avversari, comunque ci siamo portati a casa un pareggio che qual dir si voglia, comunque un risultato che non si può definire negativo, soprattutto dopo quello che stavamo passando, però, a detta di tanti tifosi, già si stava parlando di un Mr. X, già si stava parlando di un allenatore che punta solo a pareggiare, ecco, siete stati accontattati, ora arriva la prima sconfitta. Una sconfitta contestabile? Certo, si può contestare magari i cambi che li poteva fare prima, li poteva fare dopo, però, ragazzi, sicuramente è una sconfitta brutta, cosciente, e io sono preoccupato più che altro per come può affrontare il gruppo questa sconfitta dal punto di vista mentale, perché non solo comunque è una sconfitta, ma è una sconfitta, tra virgolette, vecchio stampo, ovvero una di quelle che succedeva durante la gestione Corini. Eravamo in vantaggio nel primo tempo e secondo tempo viene tutto ribaltato. Quindi si può definire un grosso passo indietro questo. Certo, bisogna dire che i gol della Reggiana sono sempre situazioni non proprio di gioco, calcio di punizione e gran gol del capitano della Reggiana, però, ragazzi, lì davanti comunque, ancora una volta, fatichiamo. Fatichiamo a renderci pericolosi, fatichiamo a attirare in porta e soprattutto, la cosa più importante, mettere il pallone in rete. Quindi è un aspetto, secondo me, sul quale Mignani deve lavorare e soprattutto un elemento sul quale bisogna essere più coraggiosi, più, più, come dire, più offensivi da questo punto di vista, perché è ok coprirsi e non subire gol, però poi, avete visto, siamo andati in svantaggio e poi non siamo riusciti. Certo, potevamo anche riuscirci, le condizioni si erano create, anche se, nonostante i tanti cambi, vedevo che giocavamo sempre sul destra, quindi lato insignia e lato segre. Lato sinistro, ho visto veramente poco Traoré e c'era un Lund che ogni tanto faceva dei traversoni, ma che erano troppo lenti e facili da prendere per la difesa avversaria. Quindi, in conclusione, cosa dire di questa partita? Ma, ragazzi, come già vi ho detto, è una sconfitta che secondo me fa male, fa tanto male e cos'altro dire? Spero che il prima possibile arrivi questa vittoria, perché la squadra ne ha bisogno dal punto di vista mentale, dal punto di vista del morale. Quindi, sono molto arrabbiato e dispiaciuto per questo risultato. Prima dei playoff dobbiamo cercare di dare una svolta al nostro percorso. Dobbiamo cercare di renderci pericolosi anche lì in maniera offensiva. Non possiamo solo saper difendere bene. E oggi comunque, per quanto riguarda i primi 20 minuti, la difesa mi è sembrata un po' ballerina, non poi tanto solida come si era vista in precedenza. Insomma, un passo falso che è stato fatto e adesso bisogna ripartire subito dalla prossima partita. Io già mi immagino i commenti, già tutti contro Mignani, perché non ha portato del bene alla squadra. Ragazzi, Mignani è arrivato da poco, ha bisogno del suo tempo, inizialmente ha provato un pochino a coprire la squadra per evitare le imbarcate avversarie, però sì, adesso dovrebbe un pochino essere più spregiudicato nell'offendere. Vediamo se succederà qualcosa, visto che adesso Ranocchia è recuperato, infatti quest'oggi ha avuto un po' di tempo per calcare il campo, magari cambierà qualcosa, anche se, in verità, lo ho messo nella linea di centrocampo e non lo ho messo in posizione più avanzata. quindi fatevi sapere la vostra gioco in un commento cosa ne pensate di questa partita, lasciatevi un piacere di supportarmi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, condividete e attivate la campanella delle notifiche, così quando pubblicherò un video vi arriva l'avviso. Detto questo, vi rimando al prossimo video e sempre Forza Palermo. Ciao tifosi! Ciao!